buongiorno ragazzi vi ricordo per chi volesse sostenere il canale degli esonerati lo può fare solo ed esclusivamente gratis con un semplice click click si iscriviti ed attiva la campanellina altrimenti metto il banner che mi ha fatto seven up il grande seven up iscrizione al canale e like tutto gratis no abbonamenti no donazioni con tutto rispetto per chi chiede abbonamenti e donazioni ognuno è giusto che faccia quello che vuole noi la nostra politica diciamo noi siamo una mosca bianca di youtube è totalmente diversa non vogliamo criticare chi chiede donazioni e abbonamenti ma a noi non interessano noi ci divertiamo con voi voi vi divertite con noi e andiamo avanti così tra l'altro volevo ricordare che c'è chi scrive c'è chi scrive sulla carta igienica e chi scrive libri editati mi sto ovviamente sto parlando di moncalvo moncalvo scrive libri editati e poi c'è chi lo critica che scrive sulla carta igienica solo lì può scrivere chi critica moncalvo perché il curriculum la serietà la professionalità la stessa credibilità la parla chiaro cari ragazzi parla chiaro quindi per quello che è successo dopo le parole bomba di moncalvo è scoppiato fuori un po di tutto da parte di molti gioventini io lo chiamerei disagio fanatico per qualcuno per qualche altro fanatismo e perversione decidete voi come chiamarla la reazione di qualche juventino perché cosa sta succedendo bisogna dirle tutte ormai siamo in gioco e giochiamola fino in fondo cosa bisogna dire bisogna dire che le parole forti di moncalvo e lo hanno fatto passare per un pazzo visionario con voglia di rivalza equivalgono a quello che dissero per zeman se vi ricordate quindi ci vedo delle similitudini eh nel trattamento tra moncalvo da parte dei tifosi giuventini e zeman ma quello che dice moncalvo non può e non deve passare in osservato perché lui dice delle parole forti sapendo benissimo a cosa va incontro non è uno scellerato che offende in un video un pubblico ufficiale facendo un reato penale tra l'altro vi ricordo che ci sono tre o quattro canali che a detta di qualcuno sono stati denunciati anche perché hanno offeso un pubblico ufficiale facendo nome e cognome cioè questo è il livello di certi canali che invece di parlare di cose che non sanno tipo quell'altro lì che parla di quello che fai banditoli quello che parla di plus valenza e bilanci quello a malapena riesce secondo me a cliccare su una calcolatrice e lo vedi che parla dei bilanci dell'inter lion rock te l'ho scritto anche sotto il video stamattina lion rock non è un gelato te non sai nemmeno di cosa stai parlando non hai non hai le basi non hai la documentazione non hai la conoscenza canali del milan che parlano dell'inter tutti i giorni perché l'inter tira molto più del milan ragazzi parliamoci chiaro lo hanno capito allora chiamati bandito nero azzurro invece di bandito rosso nero e parli tutti i giorni dell'inter per l'amor di dio puoi parlare di cosa ti parli ma cambia il nome in bandito nero azzurro fa prima no ma te l'ho anche detto ti aspetto in live facciamo due chiacchiere ma non tu vieni ma perché tu vieni ma che paura hai non ti mangia nessuno sei a casa tua al sicuro non è che t'ho detto andiamo in un piazzale con due asci a testa non avete le basi per confrontarvi non avete non avete nulla non avete documentazione sparate solo minchiate e vedere che i canali del milan della juve parlano tutti i giorni dell'inter perché i ragazzi tira molto più l'inter delle vostre squadre ve ne siete accorti e parlate tutti i giorni di noi io sono stato il primo a criticare zanghi a dissociarmi dal suo modus operandi però tutto ha un limite attenzione io non sono il difensore del litio qui parliamo di un forte disagio da parte vostra perché avete capito che non ce n'è sul campo allora cosa fate siccome qualcuno ha fatto ha fatto maramao dovremmo fare maramao anche noi secondo voi ma noi non abbiamo fatto maramao e qui concludo il video dicendo una cosa forte tra l'altro me l'avete chiesto vi invito a iscrivervi al canale attivare la campanellina è tutto gratis se ci volete stare vicino basta un'iscrizione per chi volesse poi la rimetto la rimetto calma calma se la trovo non so se dove l'ha messa per chi volesse poi non so se ha tolto quello vediamo un po non c'è più comunque per lasciate che sono i dati magari lo ritirmo fuori il code dove si canzionano a mi hanno contattato perché non penso sia in fase embrionale da quello che mi hanno detto ma penso sia addirittura in uno stato avanzato vogliono fare tipo identità bianconera dei ragazzi dell'inter con un pool di avvocati allora ragazzi qui l'avvocato pierre si è messo a disposizione ovviamente impegni lavorativi permettendo dell'avvocato pierre ma perché perché noi siamo gli unici ad avere la documentazione che certifica che l'inter non ha violato nessuna legge non è presunzione sto parlando di documentazione non ti sto dicendo siamo i più bravi ma nessuno ha la documentazione che abbiamo noi perché nessuno aveva voglia di spendere compresi documenti scaricati dalla camera di commercio di hong kong come abbiamo avuto noi noi abbiamo avuto voglia di spendere infatti tutti li abbiamo mandati tutti a spendere anche quelli e dicevano cose totalmente diverse dalle nostre tutti a spendere voglio essere educato li abbiamo mandati tutti a spendere parlo anche di giornalisti interisti e tutti a spendere li abbiamo mandati e voi lo sapete benissimo quindi per diciamo l'identità bianconera tinta di nero azzurro per quella fondazione che sta nascendo quel pool di avvocati che vuole fare esposto contro la juventus eh lo potete fare ma ve l'abbiamo spiegato ve lo diranno i vostri legali solo su cose nuove non su cose dove è in atto un processo penale a roma prisma dove c'è già stata una condanna dove è finito tutto a taralluccio e vino della giustizia sportiva con il patteggiamento perché qualcuno dovrebbe andare sul vocabolario e cercare il significato della parola patteggiamento lì non potete fare nulla se avete dubbi su cose nuove successe anche in passato allora sì ma su queste cose qui non si può fare nulla comunque concludo dicendo se avete bisogno di documentazione per fare un esposto sempre se si tratta di cose di cose serie con professionisti seri e con diciamo cose fatte non per bene di più ma questo lo valuterà l'avvocato pr che si è messo a disposizione ciao inter ciao